Noi stiamo raccogliendo molte esperienze di queste persone e notiamo quanto desiderio ci sia di essere ascoltati e ascoltate e quanto poco spazio e anche quanta troppa timidezza o vergogna o paura c'è. E' anche importante proprio portare al centro un tema della disobbedienza e quando parli disobbedienza all'interno delle scuole qualcosa accade. Grazie 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 Grazie